Importante iniziativa dell'amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, iniziativa che porterà in dubbi benefici sia a livello ambientale che sul piano occupazionale. Su decisione della Giunta Comunale di Taranto è stata disposta la riattivazione della convenzione con Chima Ambiente, finalizzata al servizio di conferimento e recupero del materiale proveniente dalla raccolta differenziata urbana. Un provvedimento che è adottato su proposta dell'assessore Stefania Fornaro non solo rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione dei rifiuti urbani e il miglioramento della gestione ambientale della città, ma potrà restituire serenità a numerose famiglie tarantine. Infatti i rifiuti raccolti saranno conferiti all'impianto di prima lavorazione e stoccaggio Pasquinelli, un'infrastruttura chiave per il trattamento all'ottimizzazione del processo di gestione dei materiali riciclabili, che in questo modo potrà riassorbire al lavoro i 21 dipendenti che già operavano presso l'impianto, garantendo così continuità occupazionale e stabilità economica per i nuclei familiari interessati. Questo è l'incipit del comunicato ufficiale di Palazzo di Città. Con lo stesso provvedimento di Giunta sono state approvate le nuove tariffe di conferimento, che riflettono un impegno concreto verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani. La riattivazione della Convenzione è una dimostrazione forte del nostro impegno per l'ambiente e per il benessere della comunità ionica, ha dichiarato l'assessore Stefania Fornaro. Il sindaco Melucci, dal suo canto, si legge nel comunicato, afferma che questa decisione rappresenta l'ennesimo segnale di una politica amministrativa decisa a realizzare fino in fondo il processo di rigenerazione urbana, sociale ed ambientale della città, così come previsto dal piano ecosistema Taranto. La grande sfida è dunque la differenziata. Per raggiungere obiettivi ottimali e superare dati non certo positivi, anche qui sarà indispensabile da una parte l'adeguamento tecnologico-infrastrutturale dedicato alla raccolta differenziata e dall'altra il senso civico e la collaborazione di tutti i cittadini. Presto torneremo sul tema.